Benvenuti a 7 giorni in 70 secondi, dove vi raccontiamo in pillole gli avvenimenti più importanti della settimana. Apriamo il DG parlando della campagna vaccinale anti-influenzale in Sardegna. Il vaccino anti-influenzale, evidenzia il professor Stefano Del Giacco, immunologo e allergologo del Duilio Casula, è un trattamento sicuro che protegge dall'influenza. Del Giacco conclude ricordando l'importanza della vaccinazione per anziani e categorie a rischio. Da ieri 16 dicembre anche i bambini dei 5 anni in su potranno vaccinarsi. Sarà possibile prenotare, come di consueto, sul sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, negli ATM degli uffici postali tramite call center all'800 00 9966 o tramite portalettere. Questa settimana sul nostro sito www.contuocagliari.it trovate un approfondimento su psoriasi e artrite psoriasica, con la professoressa Laura Zori, direttrice della dermatologia del San Giovanni di Dio, e il professor Alberto Cauli, direttore della reumatologia del Duilio Casula. La farmacia del Policlinico Duilio Casula riprende la normale attività dopo lo stop necessario per l'inventario. Il servizio di distribuzione farmaci è attivo, come sempre, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Martedì 14 dicembre è andati in onda la puntata di 15 minuti con dedicata alle malattie del cuore, insieme al dottor Giancarlo Molle, cardiologo del Policlinico Duilio Casula. Se vi siete persi la puntata, potete trovarla, come sempre, sul nostro sito www.aucagliari.it. Vi ricordiamo che quello di martedì è stato l'ultimo appuntamento del 2021. 15 minuti con torna martedì 11 gennaio per la prima puntata del 2022. Come di consueto vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e LinkedIn. Potete leggere le nostre news sul canale Telegram A.O. Cagliari e per chiedere informazioni potete inviarci un messaggio su WhatsApp al numero 338 7194434. Buon fine settimana a tutti, 7 giorni in 70 secondi vi augura buone feste e vi dà appuntamento a venerdì 14 gennaio 2022. Grazie a tutti.